Ripetimi, Marta, Marta, ripetimi, ripetimi questo che mi hai detto, che mi hai fatto appena un anagramma, l'anagramma del tuo nome, tu ti chiami? Marta. Marta, e mi hai appena spiegato una cosa, tu sei appassionata di anagrammi, eccoci, e un anagramma del tuo nome, lo facciamo vedere qui che è scritto bene, l'anagramma di Marta qual è? Tarma. Tarma, ma da dove viene questa tua conoscenza di questo anagramma? Dalla mamma che mi chiama alcune volte Tarma per scherzo. Ah, per scherzo, ecco, vorrei ben dire. E mi hai detto che c'è ancora, la mamma controlla, che c'è ancora un anagramma di Marta. Sì. E qual è, aspetta, l'hai scritto prima, mentre chiacchieravamo? Trama. Trama, e la trama, la trama, la trama cos'è? E quando, o quando, o quando qualcuno trama qualcosa, quindi pensa qualcosa, o quando, o nei film, la trama di un film. Di un film, di un libro e di un film, perfetto. Quindi sei esperto in anagrammi? Io l'ho visto perché avevi sulla maglietta scritta la parola, da questo è nato il nostro discorso, mostraci la maglietta. Si è scritta una parola in inglese? Love. Esatto, e si scrive love, love, noi usiamo le lettere quindi io leggo malamente come è scritta. Perché abbiamo visto, mi hai fatto notare, che love ha una possibilità di trovare un'altra parola anagrammata. Sì. E qual è? Velo. Velo, quindi ci saranno tanti anagrammi nella lingua italiana. Sì. Sì. Adesso tu non te l'aspetti, però se in famiglia qualcuno è appassionato di calcio? No. No, ma il cugino sì. Il cugino. Però pensa un po', c'è uno stadio in Italia che si chiama San Siro. Sì. Aspetta, che inquadriamo così per i nostri amici. San Siro. Ecco, io penso che se tu fai l'anagramma di San Siro, viene fuori il cognome, scusa, il cognome di una persona che conosci. Rossi. Rossi, che è qui presente, che ci sta controllando, la mamma. Hai visto che ci sono tante possibilità. Questa non la sapevi? Mamma la sapevi? No. No, non la sapeva. Non la ho mai pensato. La mamma no. Ok, va benissimo. Allora tu puoi continuare a lavorare e noi facciamo i nostri giochini, se la mamma non è appassionata. Allora ho visto che qui, su una vecchia settimana mistica che avevi a casa, hai già fatto, non so se con la mamma, con il papà o da sola qualche giochino. Sì. Sì. Allora prendi l'ultima settimana mistica, quella mia lì, appoggiata, ecco così, e non ti faccio fare sul tuo. A pagina 3, cerchiamo un anagramma. Ecco, guarda qui. No, no, 3, 3, eccolo qui. Vedi, questo qui è un anagramma. Proviamo a leggere. Titolo. Anagramma, mancava la luce. Con? Con? XXXXX. Sono salito al primo piano, ma all'ultimo. XXXXX. Sono caduto. Ho rimediato una brutta botta, cadendo proprio come pera cotta. Ecco, cosa ti sembra di questo tipo? Cascato. E' simpatica anche la storia. Vediamo un po'. Io adesso devo trovare due parole. Sai come funziona questo qui? Se hai risolto qui vedo che hai risolto dei giochini. Sì. Vuol dire che già sai qualcosa di come funzionano questi giochi. Vuoi spiegarci? Ci sono le X. E con queste, con... Con le lettere di una parola. Con le lettere di una parola devi, scambiandole, formare un'altra parola. Esatto, esatto. Le lettere formano. E vedi che formano è un anagramma di F romano che è l'autore del gioco. Guarda quante combinazioni. Allora vediamo, io ti consiglio, forse dalla seconda parola. Leggi il secondo verso. Ma all'ultimo. Sono caduto. Sono salito al primo piano. Quindi dove potrebbe essere caduto questo personaggio? All'ultimo, immagina la scena. All'ultimo gradino. Gradino, esatto. Però c'è un'altra parola, forse io so già la soluzione. Invece che gradino, prova qui. Scalino. Brava, brava. Io ti aiuto un po', perché ti dico che non è gradino. Scalino. Vuoi scriverla sulla carta, qui vicino? Ok. Scalino. Eccoci. Adesso vediamo un po'. Trova la prima parola. Attenta, vado qui. Con... Slancio. Uy la miseria, come hai trovato? S. L. A. Bravissima. L. C. I. Sono lì, sì. Ovvio. Brava, brava. Sei ferrata. Vai bene a scuola? Sì. Sì, chi ti accompagna? La mamma. E allora vai bene a scuola. Sì. Ok, scrivi slancio che controlliamo. Scrivi sempre qui su questo pezzo di carta. Perfetto. Slancio. Scalino. E sono proprio le stesse lettere. Beh, complimenti. Brava. Beh, adesso se ho bisogno di un aiuto quando risolvo i miei giochi, posso contare su di te? Sì. Sì. Oh là, brava, brava. Mi piace. Benissimo. Adesso facciamo ancora un paio di giochini, poi casomai ci mettiamo a studiare. Intanto spengo. Ti è piaciuto intanto? Comunque questo? Sì. Sì, adesso sei anche l'anagramma del cognome della mamma. Va bene? Sì. Ciao, Marta. Ciao, ciao. Ciao. Ah, va, e va a andare a fare, eh? Brava, brava.